Grandi novità sulle assicurazioni viaggio di Eimondo. Sì, è arrivato un comunicato stampa, 48 ore fa circa, io mi sono fiondato a registrare questo video, che poi dopo è arrivata anche un'altra notizia, insomma, vi devo dire tutto, e vi dico tutto in questa Premiere. Sono sei novità, due prodotti nuovi e, vabbè, c'è una cosa bomba. Prima di lanciarci in queste novità prodotti nuovi, notizie, ti ricordo Super Travel Club, la community di viaggio e crescita personale più figa d'Italia, oltre 650 persone già iscritte, il link è qui sotto in descrizione per entrare nella parte, appunto, completamente gratuita, così ti orienti un po', tanto contenuto in più rispetto al canale YouTube di Viaggio Vero, una community che poi si incontrerà anche in futuro, insomma, tante cose fighe per un progetto veramente figo. Super Travel Club, link per entrare nella parte completamente gratuita, qui sotto in descrizione. E prima di passare a tutte le novità, la notizia bomba, te la devo dare, nel senso che sono arrivate le novità, quindi con un comunicato stampa di Eimondo che mi elencava tutte le cose belle, nuove che ci sono, i due prodotti, ma è arrivato anche la promozione estiva. Raddoppio dello sconto, 20% da oggi, da oggi, e io ve lo do oggi, ve lo dico oggi, come me l'hanno detto ve lo dico, dal 14 fino, come puoi vedere, al 24,7. Quindi, aspettate che mi tolgo anch'io, che così si vede meglio, no, facciamo che è grande qua, solo fino al 24,7. Abbiamo 10 giorni per usufruire del 20% di sconto su tutte le polizze assicurative che vai a stipulare con il link che trovi qui sotto in descrizione, che trovi in tutti i miei video, non è cambiato il link. Tu ci clicchi sopra, come entri nel mondo, vedrai che invece del 10% che abbiamo tutto l'anno, e che rimarrà per tutto l'anno, quindi se non ti serve adesso l'assicurazione, ma devi viaggiare l'anno prossimo, eccetera, avrai comunque sempre 10% di sconto, ma se devi viaggiare da qui ai prossimi 5-6 mesi, o vuoi comprare la multiviaggio annuale, beh, è il momento giusto perché lo sconto è raddoppiato. Ma solo da oggi fino alle 23,59 del 24 di luglio. Quindi tutta anche la domenica 24 di luglio è compresa, è domenica 24 di luglio? Non lo so, comunque tutto il 24 di luglio è compreso fino alle 23,59. Ma prendila in questa fascia, cioè oggi c'hai il 20%, ci entri e lo vedi. Io più di così non posso fare. Detto questo, andiamo alle novità che si vanno a unire a questa cosa dello sconto e nei prossimi 10 giorni, secondo me, avete ben d'onde per acquistare, appunto, l'assicurazione di Eymondo. Come sapete, Eymondo è la mia assicurazione ormai da tre anni e mezzo. È la mia assicurazione, mi trovo bene. Non è che spingerei così tanto un'assicurazione se non mi trovassi bene io per primo. Vi ricordo l'assistenza 24 ore. Ci sono tanti video che ho fatto già sull'assicurazione. Viene attivata immediatamente se la chiamate o la attivate con l'app e non dovete spendere nemmeno un centesimo. Insomma, ha tutto quello che io voglio da un'assicurazione di viaggio. Ha un massimale alto, insomma, ha tutto quello che io voglio da un'assicurazione di viaggio. Vi ho spiegato il motivo per cui, secondo me, non ha senso viaggiare nel momento attuale senza assicurazione. Per andare ovunque. Prima grande novità, l'abbiamo cercata, richiesta, voluta, io l'ho mandato mille mail in questi anni a Eymondo, magari a volte non mi hanno neanche risposto, però chiedevo l'innalzamento dell'età per poter fare le polizze. Fino a ieri l'altro, era 64 anni e quindi mi teneva fuori tantissima fetta della mia community che magari ha più di 64 anni. Bene, in una botta sola hanno alzato la possibilità di stipulare assicurazioni di viaggio con Eymondo a 74 anni. Dieci anni in un botto solo. Beh, io sono rimasto basito da questa cosa, ma anche molto molto contento. Non c'è altro da dire su questa novità? Fino a 74 anni puoi stipulare polizze viaggio di tutti i tipi con Eymondo. Novità numero due, c'è stata l'estensione del limite delle spese mediche per alcune destinazioni, per la maggior parte delle destinazioni, da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro. Facciamo un salto di raddoppiamo le spese mediche per tante destinazioni. Chiaro, se fai un viaggio in un paese europeo magari hai un milione di euro che va più che bene come limite diciamo di spese mediche, ma per i viaggi extraeuropei 5 milioni di euro era secondo me il minimo, 10 milioni adesso diventa veramente interessante. Quindi a seconda dei preventivi che fai vedrai questo limite che si alzerà per tantissime destinazioni e la cosa non è assolutamente male. Novità numero tre, è stata aggiunta la copertura per la responsabilità civile fino a 300 mila euro, fino a 300 mila euro. Anche qui è un alzamento della cifra importante, io sono assolutamente contento. Quindi altra novità da tenere assolutamente in considerazione. Quando si alzano limiti di copertura e o si aggiungono servizi c'è sempre da essere contento. Novità numero quattro, importantissima nel periodo e già anticipata nel gruppo chiuso di Facebook. È stata estesa fino a 15 giorni la copertura, leggo per non sbagliarmi, per il prolungamento del soggiorno a causa di quarantena medica. È un periodo un po' così, non è finita l'emergenza covid e avere un'assicurazione di viaggio che ti copra. Se devi rimanere nel luogo dove sei per contare delle quarantene, diciamo per fare delle quarantene, ecco il periodo si è allungato. Ora è di 15 giorni, quindi 15 giorni e non più, credo che fossero 7, però non ci giuderei. 15 giorni che cominciano a diventare importanti e 15 giorni diciamo che con le versioni che ci sono adesso si guarisce tranquillamente. Novità numero 5 che farà piacere a chi fa viaggi un pochino adrenalinici e più sportivi. È stata inclusa di default, quindi ce l'abbiamo tutti, in tutte le assicurazioni che si comprano, è stata inclusa di default nella copertura e in mondo un'ampia gamma di sport d'avventura. Quindi vai a controllare se lo sport che vorrai fare in viaggio è compreso, perché come sai in tante assicurazioni di viaggio se fai certi tipi di sport poi non era compreso e quindi non ti copriva in caso di incidenti. Benissimo, una grande lista di sport d'avventura è stata inserita di default nelle assicurazioni, ma c'è anche la possibilità, con un'opzione extra, di ampliare la polizza con altre attività sportive che sono considerate più estreme. Faccio un esempio, l'arrampicata. L'arrampicata non è uno sport estremo e quindi deve avere una polizza particolare. Qui avrai la tua polizza e la dovrai solo allargare alle attività che vai a fare, quindi contattando il mondo e in due minuti allarghi l'attività, ci sarà un costo leggermente maggiore, ma di base hai coperto poi anche quelle attività. Quindi sport estremi e sport d'avventura tantissimi, già compresi sport estremi a richiesta, ma potrai metterli nella tua assicurazione. Vantaggio numero 6 che piacerà a tantissimi, da oggi, cioè da ieri, quando è arrivato il comunicato stampa, l'assicurazione in mondo la puoi fare anche quando sei in viaggio. Sì, perché cambia e quasi nessuna assicurazione in Italia ti dà questa possibilità di stipulare l'assicurazione non solo prima di partire, ma anche se ti sei scordato o scordata una volta che sei in viaggio. e parte appunto nel giro di qualche ora l'assicurazione. Non te lo consiglio, ti consiglio sempre di farla e coprire l'intero viaggio, quindi farla almeno 24 ore prima della partenza, ma se prima la regola era che andava fatta 24 ore prima della partenza perché impiegava circa 24 ore a partire, ora la puoi fare anche quando sei in viaggio. Ok? Se ti sei scordato o scordata o non lo so, per qualsiasi motivo. Quindi può essere molto interessante questa novità. E poi due nuovi prodotti. Due nuovi prodotti che vanno ad aggiungersi all'assicurazione classica di viaggio nella sua formula top, tranquillità e premium e nell'assicurazione multiviaggio. Quali sono questi due prodotti? Beh, il primo è l'assicurazione annullamento viaggi. E cosa intendo? Intendo che puoi acquistare esclusivamente quella. Cioè l'assicurazione annullamento viaggio è compresa in alcuni tipi di assicurazioni classiche che abbiamo visto nelle loro versioni un pochino più grandi. Però ora puoi acquistare anche solo l'assicurazione annullamento senza prendere l'assicurazione medica, eccetera, eccetera. E' un'assicurazione di annullamento del viaggio fino a nove cause di annullamento. Guarda bene quelle che ci sono. E copre fino a 6.000 euro per viaggiatore dei costi del viaggio. Quindi ci sono dentro tutti i servizi. Voli, hotel, cose acquistate, eccetera, eccetera, eccetera. E' già pagata. Quindi questa è un'assicurazione di annullamento solo per l'annullamento del viaggio. Ripeto, in alcune assicurazioni più complete, quella classica che completa, nella versione premium, ad esempio l'assicurazione dell'annullamento viaggi, c'è fino a un certo limite. Qui acquisti solo queste, ti annulla solo, cioè ti copre solo l'annullamento del viaggio. Non ci sono spese mediche, non c'è copertura covid, non c'è queste cose. Solo l'annullamento viaggio. Andatevi a leggere bene le clausole, però c'è questa cosa qua che è molto, molto interessante come singolo prodotto. Il secondo prodotto inserito è un po' studiato per i nuovi tipi di turismo, ovvero soprattutto anche per i nomadi digitali, perché è un'assicurazione di viaggio lunga permanenza. Perché? Perché l'assicurazione di multiviaggio annuale ti permette di stare fuori, credo 90 giorni, però andatevi a leggere l'assicurazione che avete stipulato se avete una multiviaggio. Questa assicurazione invece la stipuli se devi stare fuori, se hai la certezza di stare fuori in viaggio, da 90 giorni in su. Quindi questa può durare anche per viaggi in cui non rientri a casa fino e stai fuori più di 90 giorni. Hai spese mediche fino a 2 milioni e mezzo di euro, furto e danni compreso fino a 1000 euro, ritardi nelle partenze, la copertura covid. È sostanzialmente simile a una multiviaggio annuale, ma può essere che magari ti serva perché magari stai sei mesi fuori per, non so, un'esperienza da qualche parte. Ecco, se stai sei mesi fuori, che sono 180 giorni, il problema era avere un'assicurazione che ti comprisse per un tempo così lungo. I nomadi digitali che magari stanno fuori 10-12 mesi era un problema, perché magari non riuscivano a rientrare e riattivare l'assicurazione multiviaggio annuale. Questa ti permette di avere un'assicurazione che dura anche più di 90 giorni, e che quindi per tutta la durata. La puoi anche rinnovare al ritmo del tuo viaggio, come hai indicato lì, ovvero la puoi rinnovare mentre sei in viaggio, se, non so, l'avevi fatta di sei mesi e ti propongono di rimanere lì altri tre mesi, benissimo, la puoi rinnovare di altri tre mesi, senza problemi. Quindi questa è assolutamente un'ottima scelta. È un nuovo prodotto, va capito, fai prova a fare dei preventivi, se hai dei dubbi, contatta l'assistenza di Eymondo, perché sono sempre pronti e in due secondi attraverso la chat vi rispondono. Veramente, è inutile che fate domande tecniche a me dell'assicurazione, che magari non è il mio prodotto, quindi non lo conosco bene, io ce l'ho, lo utilizzo e so le caratteristiche del prodotto che serve a me, però non conosco tutti i prodotti di Eymondo. Quindi contattate loro, fate domande, sicuramente vi risponderanno e vi toglieranno ogni dubbio. Ora, queste le novità abbiamo concluso. Vi ricordo nuovamente lo sconto del 20%. Se vedi questo video dopo il 24 di luglio, mi dispiace, lo sconto è finito, però continuerà il 10%. Il 10% ce l'abbiamo sempre. Se hai la fortuna di vedere questo video tra il 14 di luglio 2022 e il 24 di luglio 2022, beh, con il link che trovi qui sotto in descrizione, hai lo sconto raddoppiato. Se lo vedi dopo il 24, ci clicchi comunque sopra e hai lo sconto del 10%. Che non fa schifo, però il 20% è il doppio. Ti ricordo che se ti sto aiutando in qualche modo con questi video e ti sto dando delle opportunità come questi sconti con le assicurazioni di viaggio e magari ti faccio capire anche come funzionano meglio le assicurazioni di viaggio, puoi sostenere il progetto con una piccola donazione oppure abbonandoti a 99 centesimi al mese. È una cifra ridicola per te, ma che in realtà per noi, se siete in tanti, significa avere più tempo da dedicare a Viaggio Vero e anche fare più video che ti aiutano sempre di più. Insomma, è un vantaggio anche per te sostenere il progetto Viaggio Vero. Chiudo dicendo che è nato da un mese e mezzo-due ormai il canale Telegram, le offerte di Viaggio Vero, dove pubblico un sacco di offerte che trovo anche per me, oggetti viaggio, valigeria, aerei, trasporti generici, hotel, di tutto e di più. Anche assicurazioni. Passerò anche lì l'assicurazione in questi 10 giorni, il 20% di sconto dell'assicurazione, quindi vi bombardo anche lì per non farvi scordare questa cosa. Insomma, vi passo quello che trovo e che secondo me ha un valore per quanto riguarda le scontistiche, le offerte, le promozioni. E poi soprattutto spesso le utilizzo anch'io. Link chiaramente è qui sotto in descrizione ed è completamente gratuita l'iscrizione. Se sei arrivato fino a qui, hai fatto 30, 31, 32, puoi fare 33 mettendo un pollicione verso l'alto, così aiuti a crescere il canale e fai tanto tanto felice il sottoscritto. Se non sei ancora iscritto e iscritta, beh, il logo di Viaggio Vero è quello che trovi qui sotto, ci clicchi sopra, clicchi anche sulla campanella lì a fianco perché in questo modo riceverai tutti gli aggiornamenti ai video che andrò a pubblicare da qui in avanti. Buoni viaggi assicurati, mi raccomando, e se prendete anche lo sconto è anche meglio. Io sono Cristiano di Viaggio Vero e di nuovo, buon viaggio!